Branca è in vacanza, per modo di dire, una vacanza siciliana perché il direttore dell'area tecnica dell'Inter, Tormina, dal presidente del Catania Pulvirenti. Lì c'è anche il vice presidente Cosentino. Da Gomez a Lodi fino a Barrientos, questi sono i nomi che interessano, niente sviluppi o trattative, almeno fino ad oggi. Gomez dovrebbe andare all'Atletico Madrid, il Papu, Lodi non è il giocatore ideale per Walter Mazzarri, Barrientos un po' troppo simile a Guerino Alvarez, profili che l'Inter è evidentemente già in casa. Quindi al momento nessuna priorità concreta, vacanza allora fino a ulteriori aggiornamenti.